Bocce ferma, il Campobasso lavora come società a una riorganizzazione dei quadri, dunque a un possibile e sperato ingresso di altri imprenditori nel Giro Rosso Blu. Contestualmente si pensa alla parte tecnica, da quello che trapela da fonti bene informate e vicini all'ambiente Rosso Blu, Vullo, che ieri ha lasciato il Molise per riguadagnare Agrigento, sarebbe vicino all'interruzione del rapporto con il Campobasso. Alla base ci potrebbero essere anche ragioni di ordine anagrafico. Poi il Campobasso gradirebbe una guida tecnica più giovane, fermo restando la professionalità e la competenza evidenziate da Vullo nella sua seconda parentesi nel capoluogo molisano. Starebbe già iniziando qualche sondaggio da parte di alcuni rappresentanti del Campobasso per tastare la disponibilità di nuovi allenatori a guidare tecnicamente la squadra. Tutto ciò, riteniamo, dovrebbe essere comunque messo in secondo piano in una gerarchia di priorità rispetto al rafforzamento della base societaria che, secondo un nostro modesto parere, dovrebbe costituire l'impellenza più urgente da realizzare. Tra i chiacchiericci e le telefonate delle ultime ore ci sarebbe una fatta pure con Massimo Agovino, allenatore che ha lavorato in Molise esattamente ad Agnone e Trivento. Nella stagione agonistica da pochissimo conclusa, Agovino ha guidato la Cavese serie di Giron e H, conducendo i Campani fino a un discreto sesto posto in classifica. Quello con Agovino rimane un contatto tutto sommato superficiale, nulla che faccia pensare a qualcosa di più, almeno per ora. Insomma, da questa emittente non vogliamo consumare ufficialmente e anticipatamente una separazione con Vullo, ma lo diamo con una percentuale vicina al 5% che possa ancora essere l'allenatore rosso-blu nella stagione prossima. Aspettiamo che la società manifesti i suoi propositi per la stagione che verrà. Probabilmente le esitazioni e le attese sono strettamente legate alla nuova riunione che i vertici e i dirigenti rosso-blu hanno appuntamentato alla fine di questa settimana, massimo agli inizi della prossima, da rimarcare che le indagini che sta conducendo la procura di Catanzaro su giri illeciti di scommesse in Lega Pro, ma anche in Serie D, potrebbe condurre pure a un significativo terremoto di classifiche e risultati del campo nelle suddette categorie. Il campo basso potrebbe essere indirettamente interessato da queste vicende davvero ai limiti della decenza. Si sta scoprendo un sistema marcio e completamente alterato, dipendente soltanto da esiti pilotati delle partite. Emblematica e sconvolgente una conversazione telefonica nella quale un tale chiedeva addirittura al magazziniere del Sant'Arcangelo, Lega Pro, Girone B, se per quella data partita proprio dei Romagnoli poteva puntare al risultato di parità. Tra gli ex giocatori del Sant'Arcangelo indagati anche il 39enne Mirko Garaffoni, fresco di promozione in Lega Pro, tenuta con la maglia della maceratese qualche settimana fa.